Se hai ricevuto così il ripristino della band che non sei riuscito poi a ripristinare il tuo computer, quindi ti esce così questo errore qua, in questo caso possiamo risolvere tutto attraverso il prompt dei comandi e poi fare un'installazione manualmente di Windows 11. Quindi in questo caso andiamo direttamente su cmd, esegui come amministratore, inseriamo così il comando che ti ho lasciato in descrizione, quindi in questo caso questo qua è il comando che avevo inserito tanto tempo fa però me lo sono salvato. In questo caso tu vai a scrivere reagent tc, spazio flash enable e fai invio. Operazione riuscita, ora così andiamo a vedere le informazioni su questo ripristino dell'ambiente. Reagent c alla fine, spazio slash info e fai invio ed eccolo qua. Lo stato abbiente ripristino Windows è abilitato, quindi in questo caso abbiamo abilitato il reagent.exe operazione riuscita, ora una volta fatto, se non dovesse funzionare sul prompt dei comandi puoi farlo direttamente sul powershield. Quindi valo direttamente su powershield, sempre come amministratore. Stessi comandi che hai visto prima, sempre in descrizione, scrivi così il comando, poi anche info e vedi se è abilitato. Una volta fatto, se non dovesse funzionare andiamo direttamente sul nostro browser, vai direttamente a scrivere Windows 11 download, andiamo così sulla pagina della Microsoft, ti ho lasciato in descrizione sempre il link. Clicchi così su questo download della media, c'è scritto così media, vai a cliccare download e lo scarichi manualmente, aspetta e lo installi. E installi tu stesso Windows 11 senza che vai a fare il ripristino sul tuo sistema operativo. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Lascia like, iscriviti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.